Ciao a tutti ragazzi sono Gmet e benvenuti in questo nuovo video, anzi meglio dire bentornati sulla serie dedicata alla calamity mod in death mode Voglio darvi un piccolo parere di come mi sto trovando in questo momento, non sento una pressione estrema da parte della mod Vedremo più avanti, sono sicuro che i boss mi daranno un filo da torcere assurdo Per vedere tutte queste cose vi invito a guardare live sul canale Twitch Gmet98 che trovate in descrizione ogni domenica dalle 8 e mezza fino a quando stacchiamo Insomma quando sono stanco finisce anche la live, così come lo scorso video questo è un estratto live, ci sarò io che parlerò con la chat o che guarderò la chat Non lavorò l'attenzione diretta su di voi ma non preoccupatevi, penso sia uscita davvero bene, forse meglio di alcuni video che ho fatto in passato e sono davvero contento Comunque ragazzi io vi lascio al video e ci vediamo alla fine Vi aggiorno subito su quello che vorrei fare, ho deciso di non utilizzare solamente le spade ma tutte le armi melee Quindi fare una serie completamente melee con ovviamente yo-yo, appunto le spade che comunque sono forti Boomerang, cioè tutto quello con le spear, tutto quello che possiamo desiderare dal reparto melee Dobbiamo craftare un paio di oggetti perché sono arrivato ad avere 100 e passa di token quindi dobbiamo per forza craftare qualcosa Avevo le idee chiarissime prima, passa un giorno, mi dimentico tutto ma è normale Allora i climbing close, Aglet che aumenta la velocità, ciao Nick Comunque ragazzi ho in mente di craftare degli oggetti molto importanti oggi Che sono l'amazon, poi un'armatura di cui non ricordo il nome, chiedo scusa E poi vorrei andare nel deserto a farmare il richiamo per il primo boss In più vorrei ovviamente andare nella giungla per farmare le spore Oddio con i desert token si può fare se non sbaglio qualcosa di interessante Il tappetto volante, così, eh no dai posso fare, ma posso anche craftare tutti e due Ma perché non li ho craftati? Ah tinkerers workshop, ok ok ok, mi serve il tinkerers workshop No aspetta, mi serve il tinkerers workshop? Allora possiamo fare un cazzo In questo momento vorrei dirigermi nella giungla perché ragazzi dovete sapere che c'è una cosettina che non abbiamo preso la volta scorsa E devo assolutamente andare, voi sicuramente lo sapete già però magari coloro che non giocano a calamity non lo sanno L'acqua della giungla ci infligge il debuff bleeding, ovvero sanguinamento Quindi praticamente sanguiniamo ogni qual volta noi tocchiamo l'acqua Quello che mi stava succedendo pochissimi secondi fa Troppa gente raga, troppa gente Morite, morite tutti, via, via Ora apriamo la chest dove troveremo un altro paio di armes boots Ah no, uh, uh, ma perché escono tutti i reforge? Ah ok, nella calamity c'è una probabilità più alta di beccare reforge negativi Non è possibile che tutte le armi decenti che posso trovare mi escono shoddy, mi escono, vabbè, addio Cosa si può fare con questa roba? Ok, unholy core, ok queste sono roba molto avanzata Ok questa? Crimson flask Aumentare al 7% il damage reduction e da 3 difesa con semmo nella crimson E' ottimo Mi servono altri due di questi E 10 vertebre che possiamo tranquillamente farmarle Qua ne ho già una Però pensavo che questo drop fosse della giungla In realtà l'ho preso di là nella crimson Un cuore, un cuore, un cuore Godo Ci prendiamo queste bellissime bombe Capiccicose possibilmente così posso direzionarle senza che mi cadano Cosa ho lanciato? Una bomba per caso? Cosa? Vabbè, non capisco un cazzo Ecco qua, perfetto Prendiamolo Type crystal Vita in più Qua dentro un altro Ah, questo è uscito superior Ehi No, no, basta No, no, no Ok dicevo, questo è uscito superior Due ori che ora andremo a depositare E questi mi danno delle bellissime stinger Ci prendiamo il cuoricino Di nuovo Raga senza questa star fury non avrei fatto nulla Cioè sarei ancora a punto a capo Invece stiamo andando avanti, stiamo trovando cuoricini Tra un po' andremo a battere anche il primo boss Perché non ve l'ho detto Però ho fatto l'arena Ecco una casettina Andiamo subito a prendere Qua una bella passata di vein miner Potrei aprire per sbaglio Però vabbè Mi preparo Life crystal Non ho neanche preso il life crystal Oh una moon glow Oh mio dio Finalmente Da quanto è che non ti vedevo Carissima moon glow Ci craftiamo le armi decenti E andiamo lì a spaccare tutto Quanta roba raga Ok Dov'è il mio amarok? Amarok No Che cazzo sto dicendo? La rifaccio Dov'è il mio amazon? Presso un envir E non sono nell'envil Ah è vero manca Rick Mogani Manca Rick Perché? Perché? Queste cose devono accadere? Al minimo avrò avuto qualche albero davanti Però non mi sono indicato Il chakra Di spine Che a dire il vero Questa roba non l'ho mai craftata C'è questa qua Proprio mai craftata nella mia vita Vabbè craftiamolo questo Throne of Chakram Dai Quindi andiamo a prendere il legno E quella life crystal Anche che C'è peccato per l'inventario pieno Che non l'ho riuscito a prenderlo Legno Il legno Ragazzi il legno Avete ragione Grazie Stavo di nuovo dimenticando C'è un envir qua Oddio lo crafto qui Ce l'abbiamo fatta ragazzi Unpleasant Oh Questo si che è bello lungo Penso che il king slime Possiamo anche farlo Forse Eh però non sono sceso da qua Vabbè meglio così E infatti Ho trovato un'altra casettina Altri Hermes Vaffanculo Cosa vuoi che ti dica? Grazie No ti dico vaffanculo Ci prendiamo la chest Basta Ma di cosa me ne faccio Di altri boomerang La band of regeneration Non esiste più in questo gioco? Sì vabbè Immersa nell'acqua Io cosa devo fare? Facciamo così Uh lo specchio Lo specchio E io ci muoio E io ci muoio ora Non era qua il cuoricino Dove sono morto esatto Ah più avanti Più avanti Qua 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 Vediamo questa chest Un altro boomerang Vai dal traveling market Hai ragione Quanto tempo è passato? No Ho tirato la pozione Mi sa che ci vado Per forza Al traveling market Raga quante ce ne sono? Raga Ce ne sono cinque tipo Ok andiamo dal traveling market Cosa faccio? Perché mi compro questa roba Dai tanto per averlo Cioè Something is approaching Va bene Che boss sta per spawnare La nuova armatura di Vic Tide Sì esatto Vorrei farmare quella Ecco qua La live tool Vabbè L'osserviamo un attimo Come agisce E niente Anche se ci ammazza Ah guardate un po' Quando il rosso Sicuramente è sotto Che cos'è? No raga Raga Ma è assurdo Guardate il moveset È completamente diverso Bello Bello Oh gli sto facendo danno Ora arriva Incazzato nero Eh vabbè raga È impossibile Senza arena Senza preparazione Senza pozze Però gli sto facendo danno Ecco No questo deve morire Questo deve morire Non farmi morire Ma deve morire E vi spiego subito il perché Praticamente quel mob Ci droppa Gli stormillion mandible Che ci servono Per evocare Il primo boss Una cesta Una cesta dorata Prendiamola Prendiamola Che cazzo ridete voi? Che cazzo Io piango Io piango Quanti ne abbiamo trovati? 58? Almeno questi sono menacing Cioè Attiviamo la spelunca dai Anche se È un po' Rischiosa questa scelta Ecco qua una cesta Me la faccio subito vedere Ah ecco un altro cuore È un po' rischiosa questa scelta Perché se spawna Quel deficiente Mi scoppia Cos'era quella roba? Ok Altri due Oddio Godo Godo Il deserto Mi sta davvero facendo felice Se trovo un'altra cosa Di Hermes Boots Non so quale potrebbe essere La mia reazione Siete pronti? Non esiste Non ha senso Questo che sta succedendo Perché sto trovando Sempre le stesse cose? Non so neanche se pensare O giocare per inerzia In questo momento O però non è ancora spawnato Quel cavalluccio orribile Ciao tesoro Ciao Devi morire Ti prego muori Per favore No ti uccido prima io Ti uccido prima io Nyrion 61 di vita Dai 61 di vita Sì 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 Visible frustration Esatto Sono incazzato nero Non sono frustrato ora Che poi mi serviva quel drop Perché dropava I victory fragment Una cosa del genere Mi servono per craftare La victite armor Che è l'armatura Che utilizzeremo Per fare i boss Insomma Dove essere più tempestivo A fare danno Ripeto Mi serve urgentemente Il suo drop E non una volta Mi serve più volte Quindi quello lì Doveva essere il primo Però io Voglio vedere il contenuto È una band over generation Una Cavolo di band Io chiedo quella C'è questo qua Ok vabbè Cioè qua non l'ho presa Una volta in culo Perché non ho trovato Un cazzo L'ho presa due volte in culo Perché è spawnato pure Il mob Cos'è quello? Cridion È spawnato Dove sei? Dove sei? Dove sei? Devo fare danno Godo Rimani lì Vamos Non sei così OP Ecco qua i victory shard Che ne potrò fare Da uno a tre E me ne droppa uno Vai a cagare Stronzo Allora ora vi faccio vedere Un attimo Quello che vorrei craftare Ecco qua Levic Tide Bar Con cui poi possiamo fare Questa armatura Melee Spade Mi è perombato in testa Raga Uh Questo è un drop Questo è un drop A media spark Taking damage Release of blast of spark Questo è un drop Anche del Scorch Non sbaglio Non servono neanche così tante barre Guardate Cinque Per fare La breastplate Quattro C'è farmabilissimo E victory shard Li droppa i boss Sì però io vorrei provare A fare la natura Prima del boss Così sono avvantaggiato Cos'era quello Ok un'altra casettina qua giù Vediamo cosa ci darà E questo Luxor gift Le armi Sparano Dei proiettili Unici Basati Al tipo di danno Che loro hanno Suspicious locking eye Doppia spelunker potion Questa chest raga È stata fantastica Equipaggiamo ovviamente Questo oggetto Vabbè proviamolo io io Guardate raga Bellissimo Ma spuntano ogni qual volta Utilizzo lo swing della spada Ma è OP sta roba C'è cadono anche le palline No non mi cadere in testa Sì che ci muori Sì che ci muori Due victory shard Un altro Eh però qua Sono low Qua sono low Qua sono low Eh vabbè questi slime Ora sono noto di scala Andate Andatevene Devo craftare Devo craftare Via Via Devo craftare Uh ma c'è anche Uno io io No proviamo la spada Un attimo Ok stiamo già facendo casino Insomma Praticamente Mi crafto le pozioni E programmo il king slime E arriva da qua Che palle Perfetto Eh ma non è possibile raga Questi slime sono troppo noiosi E guudi Perfetto Perfetto Boom E il king slime è stato battuto Al fine ho utilizzato sempre la star fury Uh la lore questa Può anche rimanere lì 3, 2, 1, boom Ah ok Boost life regen Heaven wide under the effect Ah ok Solamente quando siamo stati effetto di un debuff che danneggia Quindi tipo fuoco, veleno Sei inutile in poche parole Real gel Slime Shady Un altro oggetto utile è Questa crimson flask Bloodletting essence Che ovviamente la otteniamo nella crimson Può provare a rompere un cuore per far cadere Un meteorite Sì, sì Così ti rigerò anche i goblin Insomma comincio un po' a ingranare Raga ma quella roba Ah, da che mob viene droppata Ah ok Dai face monster Quindi finché non incontro Non ho possibilità di farmeli droppare Non devi buttare l'or Danno dei buff ottimi Ma dai Ma io che ne sapevo Ma come fanno delle l'or a dare i buff? Vado a prenderla Visto che mi dite così Eccolo qua Uh ne ho 3 già Mi servono un paio di vertebre E poi possiamo andare a craftare Devi controllare sempre l'or Ok Non lo sapevo Perché prima l'or erano inutili Andiamo a prenderla Tanto non sono uscito dal mondo Place on your inventory To gain a slight movement speed And jump boost Sì Raga Crimson Flask Craftata Perfetto ragazzi Uscita Jake La mettiamo Boh Non sto utilizzando ora Questa stringa La mettiamo qua E ora abbiamo una riduzione del danno Se riusciamo a fare un desert scourge Cioè potrei craftare anche subito L'armatura Volendo Volendo Perfetto ragazzi Possiamo concludere qui il video Spero vi sia piaciuto Sabato sera uscirà la seconda parte Che concluderà l'estratto live Della scorsa live appunto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un like E commentate Da Gmettut C'è un video E ciao a tutti Ciao a tutti